benvenuti in questo test delle armi del mercato nero di maurice questa settimana abbiamo il dammed il reflux e la smart gun xxl vediamo quali vale la pena andare ad utilizzare quindi partiamo dal dammed è un assalto normalissimo è un'arma diciamo medio forte è superiore alla media come danno di come arma ma non è un'arma forte perché ovviamente non raggiunge il livello di uno shred di fire di una monarch eccetera per cui bisogna un pochino accontentarsi diciamo è comunque un'arma carina non da utilizzare magari in endgame a chaos 11 ma da utilizzare nel mentre che si sta costruendo una build o si sta facendo la storia sarà un'arma che sarà molto molto forte vi porterà avanti facilmente poi è il reflux una delle armi più forti del gioco sta roba fa i buchi punto è un'arma stupidamente forte che a differenza del dammed che magari potreste prendere dal mercato nero anche se non lo consiglio questo caso non prendete dal mercato nero perché letteralmente la potete farmare nella stessa mappa dal mercato nero da genivive per cui non ha quel gran senso è un'arma forte si funziona specialmente su flac perché tutti i fasci di energia che c'era possono fare colpo critico ma funziona un pochino su tutti i tic e c'è anche non solo flac tutti più o meno a parte mose consigliata dipende dalla build sicuramente vedete che fa i buchi ma ripeto la potete farmare nella stessa mappa del mercato nero da genivive non ha senso ottenerla dal mercato nero infine l'ultima arma è la smart gun e no la smart gun potete ben vedere che non dovete prenderla perché è pessima a parte che si farma in modo facilissimo da giga mind che ha un boss inutile si elimina in un attimo ma anche vedete che i danni sono penosi non c'è niente da fare purtroppo per i danni per cui non è quel gran che consigliata magari a inizio gioco può esservi utile per un paio di livelli rispetto a delle armi uniche ma comunque non possiamo andare molto lontano vedete che fa fatica anche con dei nemici normali comset carino arma pessima non prendetela grazie mille grazie mille